Ciao amici, siamo alla rubrica del collocamento dei piccoli annunci di Radio Bellagio. Le vostre domande offerte di lavoro, smarrimenti e ritrovamenti, piccoli annunci. Questa rubrica è in onda tutti i giorni intorno alle ore 8, 11, 18, 20 e riascoltabile sul web nel nostro sito cosmobellagio.com nella sezione dedicata al collocamento. Vendo 6 lampioni da esterno, alti 6 metri, prezzo 150 euro l'uno trattabile e vendo una lavastoviglie da barra modello Comenda a 300 euro trattabili. Vendo un registratore di cassa quasi nuovo, il tutto visionabile in zona Morbenio, 33, 98, 69, 07, 49. Vendo una tipica stufa della nonna Lenia, in ottime condizioni, con bollitore d'acqua calda, ottima per torte, misure 77 x 51 x 78 cm, chiamate il 34, 79, 79, 23, 70. Vendo un quad 200 Yamaha radiato, trasmissione cardanica digitale in buone condizioni, batteria nuova, accensione elettronica, prezzo trattabile, 34, 79, 79, 23, 70. Cerco lavoro come assistente anziani, 33, 34, 05, 77, 47. Si vendo o si affitta un appartamento bilocale a Veniano, in provincia di Como, 60 metri quadrati, posto auto interno, esente da certificazione energetica, a 380 euro mensili. Per l'acquisto il prezzo invece è di 65.000 euro. Chiamate il 33, 92, 95, 14, 21. Privato vende auto Lancia Libra 1.8 benzina Station Wagon grigia revisionata anno 2001, 107.000 chilometri percorsi, prezzo 1.800 euro trattabile, 33, 92, 95, 14, 21. Affitto un appartamento di 40 metri quadrati, arredato, a 500 metri dal lago, 180 euro mensili anche per tutto l'anno, 32, 85, 78, 57, 30. Si affitta a Mandello Centro un appartamento composto da tre locali, doppi servizi, spese condominiali minime, 33, 86, 31, 88, 10. Signora italiana automunita si offre per assistenza anziani, cure infermieristiche, preparazione pasti, lavori domestici, anche in ore notturne e in ospedale, capace, solare, disponibile, ottime referenze, 34, 85, 72, 70, 31. A Domaso affitto un appartamento collocato nel centro storico, un monolocale di 40 metri quadrati, arredato, termo autonomo, posto al piano terra, richiesti 300 euro mensili, 33, 43, 15, 71, 50. Grazie.